Sono due tipi di fatture. Si prende il biscotto, si decora direttamente sul biscotto, poi si immerge nella cristallina, si chiama, che è vetro fuso praticamente. Una volta immersa diventa tutto bianco, una volta uscito dal forno esce il suo colore, lucido. Poi c'è il sistema di smaltatura, che è una cosa più tradizionale al bisolese. Si immerge il pezzo, prima di decorarlo, nello smalto e diventa tutta una patina polverosa che la pittrice dipinge lì sopra. Ha più valore perché con la smaltatura non ammette errori. Invece se lei sbaglia, disegna lì sopra con una gomma a fare la ricetta. L'azione è nata piano piano iniziando a frequentare l'attività di famiglia e poi hai portato il tuo contributo, il tuo tocco che è tutto sull'innovazione. Si, la parte, diciamo, dell'innovazione si può dire che è della parte stampa digitale, che è, diciamo, una nuova tecnica che all'inizio è nata per i morti, per i lutti. Piano piano, ovviamente, più avanti si va, si va modificando il colore che una volta non veniva tanto bene, però adesso siamo raggiunto un lavoro quasi d'eccellenza, se può dire. Perciò piano piano abbiamo trasformato, diciamo, quello che è una classica dei peri lutti è una cosa più souvenir. Voi siete in grado di stampare un qualsiasi disegno, una qualsiasi immagine, anche fotografica, sulla ceramica. Viene processata e poi piano piano, diverse fasi, poi viene fuori che rimane sulla ceramica, non va via, non si rompe, non si scolorisce, neanche se se lo lascia il sole. Ormai, guardi, la gente vede solo così a occhio, non gli interessa più il lavoro che c'è dietro, ho già notato, guardi. Addirittura, quando noi facciamo le fiere, che facciamo anche qualche fiera molto importante, noi mettiamo sul banco, decorato e fatto a mano e in stampa digitale, perché ti dicono, ma lì è decorato a mano o no? No, su cui stampa digitale. E di quelli che sono decorati a mano penso che è stampa digitale. Una volta si viene a levare un buoniere perché è sabonale, basta, basta, è finito. Perché la gente non è più, ce n'è, io dico che classico sono il 2%.